Buongiorno a tutti, benvenuti, spero mi sentiate che tutto funzioni perfettamente. Allora mi presento brevissimamente, sono Anna Gallo, sono redattrice e formatrice di Edilingua e l'intervento di oggi verterà appunto, come dice il titolo, sulla didattica a distanza, idee, strumenti e consigli per coinvolgere gli studenti nelle lezioni online. Allora, dopo un anno di didattica a distanza, immagino siate rodati, conoscerete un sacco di strategie, ci sarà ancora qualcuno di voi che invece è più alle prime armi, spero insomma di aver raccolto una serie di strumenti, di attività da mostrarvi che possano un po' essere, diciamo, bilanciare il misto di partecipanti che siete insomma oggi. Allora, quali sono i punti sui quali vorrei soffermarmi oggi? Innanzitutto, le potenzialità della DAD e conosciamo tutti quelli che sono sicuramente i lati negativi, gli aspetti negativi, quindi la cosa migliore da fare è concentrarsi sul essere positivi, sulle cose che ci può offrire invece la DAD nelle lezioni. Quindi, vi darò alcune idee, spero, su come adattare delle attività alla DAD e idee su come coinvolgere e motivare i vostri studenti e vedremo in particolare delle attività ludiche appunto per motivare e coinvolgere. Allora, cominciamo innanzitutto con la nostra lezione in diretta, quindi in modalità sincrona quando parliamo in condivisione dello schermo su una piattaforma di videoconferenza con i nostri studenti. Naturalmente, se non utilizzate, non vi preparate ogni volta la lezione con fogli vostri, Word, PDF, eccetera, immagino che il 90% appunto di noi utilizzi un libro di testo che in questo caso sarà in formato digitale o in formato interattivo. Io vorrei chiedere a voi, giusto per sapere qual è la percentuale di utilizzo appunto di questi strumenti, giusto per capire tra i partecipanti, chi abbiamo. Allora, giusto due secondi. State ancora cliccando? Sì, vi chiedo principalmente, così so, diciamo, se posso soffermarmi un po' di di più, un po' di meno. Vi pubblico anche i risultati. Bene, allora, vedo che, sì, non tutti hanno risposto, noto, comunque va bene, almeno ho una prima idea. Molti di voi utilizzate materiale proprio, ok? E nessuno utilizza il libro interattivo, alcuni utilizzano il libro digitale. Va bene, allora vi ringrazio. Allora, quindi due parole, spendo veramente due parole su questi due strumenti, la differenza tra libro digitale e libro interattivo. Con libro digitale si intende appunto un ebook sfogliabile che come strumenti, vedete, sono più o meno fatti tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla piattaforma sulla quale ci si appoggia. Hanno una barra di strumenti molto semplici, ma comunque utili, con i quali poter giocare appunto sul libro. E quindi potete scrivere, prendere appunti, inserire note, evidenziare. Un po' la scomodità è quella di, se volete completare gli esercizi con la penna non è proprio semplice, quindi io per esempio preferisco inserire una nota e digitare con la tastiera. Però poi con l'evidenziatore potete lavorare sul testo e quindi evidenziare, sapete benissimo, le parti più importanti, i fenomeni, parole sulle quale volete lavorare e anche con lo strumento cerca, con la lente di ingrandimento, potete anche lì sfruttarla per, per esempio, inserite la parola lo e trovate tutte le ricorrenze di questa parola in un testo, per esempio, e potete chiedere agli studenti ma è un pronome, un articolo, insomma, cominciare a lavorare con loro. E naturalmente negli ebook, nei libri digitali, ci sono sempre, se il corso appunto lo prevede, i file audio e video, basta semplicemente cliccare sul simboletto e partono. Quindi è molto semplice da utilizzare, noi ci appoggiamo sia a Blink Learning, questo è un esempio, perché i nostri libri su Blink Learning si possono scaricare offline, quindi potete utilizzarli non necessariamente appunto online, però abbiamo anche tantissimi ebook anche sulla piattaforma Idee, che vedremo anche più avanti. Per quanto riguarda il libro interattivo, che a quanto pare non molti di voi conoscono ancora, questo in realtà è solo disponibile sulla piattaforma Idee.it e solo per i corsi Via del Corso e Nuovissimo Progetto. Qual è la differenza? Lo dice la parola stessa, interattivo. Vedete la barra di strumenti che c'è in basso, che è molto più grande, no? E vi farò vedere qualche attività in modo da farvi scoprire qualche pulsante, quindi lo vedremo nello specifico più avanti. Un libro interattivo indubbiamente con tante possibilità che offre, aumenta l'interattività degli studenti, il coinvolgimento, ma anche il coinvolgimento nostro, sicuramente. Allora, quali sono le attività che vedremo oggi, stamattina per voi, stasera per me? Allora, ho pensato di mostrarvi alcuni esempi di attività preparatorie e di conseguenza anche di lettura del testo input. Vorrei lavorare un attimo sulla grammatica di impiego fissaggio, attività di comprensione e produzione orale e scritta. Vi darò degli esempi di attività online e di attività ludiche. E parleremo un attimo anche degli esercizi per casa interattivi e di videogiochi. Benissimo. Allora, cominciamo con degli esempi di attività preparatorie. Allora, strumenti. Ve ne do un po', poi mi direte se li conoscete, se li avete mai usati. Innanzitutto, immaginiamo che per la settimana prossima o per la prossima lezione volete lavorare sui viaggi, le vacanze, oppure parlare della casa, delle stanze, dell'arredamento. Quello che potete fare è chiedere ai vostri studenti di preparare una foto come sfondo virtuale che utilizzeranno durante la loro lezione, cioè durante la vostra lezione. E loro cosa faranno? vi faccio vedere più con un'immagine, capirete subito. Praticamente, quando farete lezioni gli studenti appariranno così, no? E questo vi servirà per introdurre il tema. Sarà un po' una sorpresa, no? Un po' un gioco, una novità e permette sicuramente di coinvolgere e vedrete che la comunicazione nascerà spontaneamente. Perché quando, no, vi collegherete tutti quanti, gli studenti anche da soli, anche prima di cominciare la lezione, inizieranno a commentare, no? Le varie foto. Un altro... sì, parentesi. Naturalmente, non tutte le piattaforme di videoconferenza permettono questo. Io so, per esempio, che è possibile con Zoom e Teams. Non so voi che cosa utilizzate. Alcune versioni di Skype lo consentono addirittura a chi facesse lezioni in piccoli gruppi, per esempio. Allora, sì, stavo dicendo. Un'altra cosa che potete fare è... conoscete tutti, immagino, la nuvola di parole, cos'è, no? Mi metto un'immagine così capite subito. Quindi un'attività di brainstorming con la nuvola di parole. Però qual è la cosa diversa? Che grazie alla didattica online, quindi a distanza, potete fare un brainstorming con i vostri studenti e completare questa nuvola di parole insieme. E fra poco vi farò vedere l'effetto che fa. Quindi non solo trovarla magari sul libro stampata, no? E... ho già visto una domanda. Per quale livello consigli questa attività? di... aspettate che sono tornata indietro. Un po' troppo. Datemi un secondo che recupero. Intende Riccardo, scrive brainstorming con nuvola di parole. Ma in realtà a qualsiasi livello, cioè... sia con appunto i livelli base che... ma anche con... anche un livello C1, per esempio, qualsiasi livello. Dipende dal tipo di parole fondamentalmente che volete elicitare. E... ok. Vi faccio vedere... vi dico qualche altro... qualche altro strumento e poi li vediamo insieme. Mappa mentale. Allora, sapete cos'è una mappa mentale? Ve la mostro. Che cosa si intende? No, una volta le facevamo alla lavagna, no? Si scriveva una parola alla lavagna e poi si faceva quasi il simbolo di un ragno, no? E si aggiungevano le parole. La stessa cosa si può fare online. Questo è un esempio, Mindmeister. Ha tutti questi link che vi sto dando, li potete scrivere, prendere appunti. Però vi ho preparato un foglio Word che vi potete scaricare alla fine del webinar, così li avete tutti e li ritrovate subito. Ecco, adesso vi faccio vedere come funziona perché è molto carino. Lo potete fare insieme, quindi basta semplicemente digitare le parole e... e compaiono. Compaiono e soprattutto lo potete fare sia, diciamo, in plenum e quindi chiedete agli studenti oralmente quali sono le parole che scrivete voi, ma potete proprio far partecipare i vostri studenti condividendo appunto questi questi strumenti e vi farò vedere come e quindi saranno loro a scrivere. Poi è possibile correggere, tra l'altro, quindi se dovessero fare qualche errore, insomma si potrà lavorare anche su quello. Un altro esempio di attività preparatoria. Allora, altri strumenti. Libro interattivo e adesso vi farò vedere anche quello. Con il libro interattivo useremo il tasto nascondi e mostra parti dello schermo e poi un'altra cosa che vi farò vedere è lanciare sondaggi come io ho fatto adesso con voi, no? Che avete risposto. Naturalmente molti di voi li conosceranno già. Vi do qualche esempio di siti dove potete creare i vostri sondaggi, per esempio questo conosciuto è pauleverywhere.com, doodle.com e quello che vi farò vedere io oggi, perché non posso farvi vedere tutto e non abbiamo abbastanza tempo, è Google Moduli, che in realtà è abbastanza sconosciuto ed è molto molto semplice da usare. È molto carino anche perché si possono aggiungere foto. Allora, quindi io adesso direi vado subito online, quindi perderò un attimo il contatto tra virgolette visivo con voi. Comunque se qualcosa non si vede, non si sente, il collega Daniele me lo farà sapere. Allora, condivido lo schermo e cominciamo dalla nuvola. Io ho già preparato il link, così andiamo più velocemente. Questo era Answer Garden, che è la nuvola di parole, quindi quando cliccate sul link trovate, vi si apre così la pagina. In topic, semplicemente inserite appunto l'argomento di cui volete parlare, di cosa parliamo? Vacanze? Ecco, scriviamo vacanze, ma naturalmente potete parlare di qualsiasi cosa. Scendete fino alla fine e cliccate Create, ok? E siamo qua. E qua semplicemente, se volete lavorare appunto con i vostri studenti mandate lo stesso link a loro, magari nella chat, e così tutti possono scrivere. Quindi qua che cosa scriviamo? Qualsiasi parola venga in mente agli studenti. Cosa pensano? Non so, montagne per esempio, pensano a mare, pensano a, non lo so, teste, sole. Ok? E si riempie la nuvola. Però non vi ho fatto vedere che più le persone scrivono la stessa parola, vedrete, date un secondo, la cosa strana anche adesso. Eccola qua. Vedete come si aumentano di dimensione? Quindi vabbè adesso, ora che lo completo tutto, ci metterò 5 minuti. Quindi avete capito come funziona? Se per caso gli studenti dovessero sbagliare a scrivere la parola, potete chiedere a loro stessi, no? Di qual è l'errore. Quindi potete anche lavorare su questo. Poi, l'altro era Mindmaster, che è la mappa mentale. Io questa l'ho già iniziata a preparare, però vi volevo far vedere che è facilissima. Basta cliccare sul, per esempio, qua è attività e clicco sul più e io posso aggiungere altre parole. Che cos'altro posso fare? She. E aggiungo la parola. Oppure possiamo aggiungere anche qua altri argomenti. Vedete, basta cliccare sulla parola che volete ampliare. E qui, non lo so, con chi, località, attività, vacanze. Se volete sfruttare un altro argomento, potete aggiungere un'altra parola anche qui. E per condividere andate semplicemente qui e invitate le persone, quindi i vostri studenti, oppure lo potete anche condividere su altri social media. L'altro è moduli di Google. Semplicemente digitate Google moduli. Qui, per crearne uno nuovo, cliccate semplicemente sul più ed è molto veloce. Vedete, dovete semplicemente digitare il titolo del vostro sondaggio, la domanda e aggiungere le varie opzioni. ed è pronto. Io per esempio qua, per fare prima, ho preparato un breve sondaggio sempre sulle vacanze. Per le vostre vacanze preferite, ho inserito una foto anche e ho messo le varie opzioni così. Quindi potete anche preparare dei sondaggi di riscaldamento e potete aggiungere anche sia altre opzioni, sia altre domande con aggiungi altro. Questo per quanto riguarda le attività preparatorie. Vi faccio vedere un attimo su idee. Accediamo. Che cosa si può fare con il libro interattivo? Un attimo. Quindi adesso vedete che io ho già un profilo già creato. Quindi se voi avete già, state già lavorando su idee, magari sarà più veloce. Comunque è molto semplice per registrarvi. Insomma non serve, basta solo digitare i vostri dati personali. Allora, questo è il pannello di controllo di un insegnante. Non vi farò vedere tutti gli strumenti. Vi faccio vedere solo quelli che useremo oggi, però poi, perché immagino molti di voi già la conosciate. Se non doveste conoscerla, vi metto anche un link alla fine del webinar su come utilizzare appunto la piattaforma. Ecco, e comunque potete sempre farmi delle domande. Allora, dicevo, andiamo nei libri interattivi. Vediamo quello perché qui abbiamo a disposizione tutti i titoli e io apro quelli che sto usando. Datemi un secondo che si carica la pagina. Voi non sentite ma c'è la musichetta? Per quello non sto parlando. Ok. Bene, questa è la pagina come si presenta il libro interattivo. Queste sono appunto la barra di strumenti che avete visto prima e quelli diciamo basici sono il mouse, la penna, l'evidenziatore, la gomma per cancellare, lo zoom. Comunque, cliccando sul punto di domanda potrete sempre vedere quali sono appunto gli strumenti, se avete qualche dubbio. Allora, quello che volevo vedere adesso è in particolare lo strumento, abbiamo detto, mostra o nasconde parte dello schermo. Quindi andiamo nell'unità 7, clicchiamo sulla pagina, faccio anche un po' di zoom e vedete che qui se voi state usando appunto un libro interattivo potete lavorare con questo strumento, eccolo qua. Se io clicco su questo vedete che nasconde parti dello schermo abbiamo detto. Quindi potete cominciare a fare l'attività di riscaldamento lavorando ad esempio sulle foto, in questo modo, quindi coprendo le parti che non volete ancora far scoprire. E quindi cominciare a chiedere secondo voi di cosa si parlerà, cosa, non lo so, cosa potete descrivere l'immagine, cosa mostra, chi sono queste persone. Insomma, sapete benissimo meglio di me quante domande potete fare. E poi per toglierlo, così. Vediamo un altro esempio. Vedete che qua con le frecce io posso passare da una pagina all'altra. Qui abbiamo il testo, ok? Quindi potete, naturalmente per fare zoom, c'è questo, abbiamo detto, questo tasto qui. Però un altro che nessuno conosce, probabilmente, che invece sto usando io perché è più veloce, è CTRL+, quindi sulla tastiera schiacciate CTRL+, e aumenta lo schermo. Questo ve lo dico per comodità. Vi dicevo, anche nella lettura di un testo input potete sfruttare molto questo tasto, diciamo questo strumento, perché potete coprire le parti che non volete che si vedano. E questo è un altro, quindi questo copre solo una piccola parte, non tutto. E quindi, per esempio, lavorare, non lo so, potete coprire, per esempio, i testi e chiedere agli studenti di continuare il dialogo, di immaginare cosa stanno dicendo, oppure di concentrarsi sull'immagine, sullo sguardo e chiedere perché, secondo voi, le protagoniste stanno guardando così. O di nuovo qui sotto, perché si copre la bocca, insomma, descrivete l'immagine, cosa sarà successo. Insomma, si può lavorare in tanti modi. Adesso, ritorno da voi, perché mi sembra di avervi abbandonato. Quindi, siamo in condivisione dello schermo, devo tornare qua. Dovreste vedere il PPT. Allora, qualcuno dice ogni tanto si perdono le parole, mi dispiace. E dipende anche un po' dalla connessione, però forse metteremo a disposizione la registrazione, non so, devo chiedere. Allora, torniamo a noi. Un attimo che ritorno, ogni volta che ritorno al PowerPoint, mi torna indietro. Allora, grammatica. Va bene, come grammatica? Sapete benissimo, insomma, come introdurre i fenomeni grammaticali, eccetera. Io volevo solo ricordarvi che, naturalmente, potete, per presentare i vari fenomeni, e molti di voi avete detto che utilizzate il materiale proprio, potete preparare, appunto, un PowerPoint vostro con le regole che volete trattare, potete continuare dei PDF, eccetera. Però, per chi non lo sapesse, noi abbiamo su Idee a disposizione degli insegnanti la grammatica interattiva. Quindi, sempre nel profilo che vi ho fatto vedere poco fa, in basso a sinistra, trovate il tasto grammatica interattiva. Cliccandoci, vi si aprono decine e decine di schede in PowerPoint, praticamente una specie di PowerPoint, funziona come un PowerPoint. E quindi sono schede animate, che trattano tutti gli argomenti grammaticali, dalla 1 al B2, sono già pronti, suddivisi con i vari titoli, quindi per fenomeno. E quindi, se volete, avete anche questo strumento già pronto, che potete utilizzare. Invece, volevo chiedere a voi, appunto, volevo vedere un'attività di fissaggio della grammatica insieme, come possiamo usarla, diciamo, come si trasforma dalla classe alla DAD. Il titolo è Da dove veniamo? Dove andiamo? Allora, io vi volevo chiedere, secondo voi, di cosa tratteremo. Cioè, con questo titolo, su quali elementi vogliamo lavorare con questa attività? E che attività proporreste? Mi volete aiutare a rispondere qui sotto, in basso a sinistra? Pubblichiamo anche. Allora, preposizioni, tutti quanti. Ah, bene, verbi irregolari. Andare e venire, esatto. Proposizioni di provenienza. Sì. Congiuntivi. Beh, si può lavorare su tante cose, vediamo adesso come l'abbiamo preparata noi. Che attività proporreste per lavorare, ad esempio, sulle preposizioni, sui verbi irregolari, insomma, quello che avete proposto? Allora, giocare con una mappa. Fare un elenco di luoghi in città. Ok. E quindi aggiungere la preposizione. Bene. Nome di paesi. Pensare ad un viaggio. Dialogo in cui si usano i verbi irregolari. Ok. Va bene. Volevo farvi partecipare un po'. Allora, chiudo. Grazie mille. Allora, purtroppo, non so cosa sia successo, non si legge bene la seconda frase di alcune attività. Le leggo, spero che capiate. Se avete problemi, se volete, chiedetemi, vi metterò a disposizione le slide, nessun problema. Allora, l'attività che proponiamo è questa. Scrivete sulla lavagna virtuale la seguente tabella e chiedete agli studenti di riprodurla su un pezzo di carta. Quindi una piccola tabellina con le cinque preposizioni. Dividete gli studenti in gruppi di quattro nelle breakout rooms. se non avete naturalmente la possibilità di dividerli in questo modo perché la piattaforma che usate non lo permette potete svolgere l'attività in plenum. Non vi preoccupate. Allora, l'obiettivo del gioco qual è? Comporre oralmente almeno due frasi con ognuna delle preposizioni della tabella e i verbi e la persona dei dadi. quindi servono due dadi immagino tutti quanti avrete utilizzato dei dadi in classe uno con i verbi all'infinito e uno con le persone. Finora abbiamo sempre usato questi quindi taglia e incolla. In dad possiamo usare gli strumenti ruota o cappello e adesso vi farò vedere in cui inserire i verbi all'infinito e naturalmente il dado virtuale per la scelta casuale delle persone a cui coniugare il verbo. Questi sono i link ai siti che dopo vi darò. Allora a turno un giocatore lancia i dadi o la ruota e forma una frase con il verbo della ruota coniugato alla persona indicata dal dado virtuale e una preposizione semplice o articolata. È più facile vederlo fra poco. Se la frase è corretta il giocatore mette una X sotto la preposizione utilizzata in ogni caso il turno passa al giocatore successivo. Allora adesso vi faccio vedere online cosa un attimo solo i vari siti e vince il giocatore che completa per primo la tabella. Allora chiederei di inviarci le slide perché non si vedono bene sì 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 nessun problema allora adesso dovreste vedere il mio schermo quindi tolgo quelli che abbiamo già visto allora ho già preparato la pagina con la ruota conoscerete tutti queste queste ruote virtuali si possono usare per inserire i nomi dei vostri alunni e quindi chiamarli così per esempio a caso però è divertente usarli anche appunto per fare questo tipo di giochi quindi qui per esempio basta semplicemente inserire le parole che volete ho messo partire andare uscire essere non so mettiamo tornare ecco qua e vedete che vengono inseriti nella ruota e poi basta cliccare per far uscire in maniera casuale il verbo per esempio tornare tornare poi lanciamo il dado possiamo anche aggiungere quanti dadi vogliamo in questo caso no perché non abbiamo tutte queste persone tre e quindi abbiamo alla terza persona e chiederemo agli studenti vedete che escono anche i fuochi artificiali di coniugare appunto il verbo alla terza persona e aggiungere la preposizione corretta l'altra l'altro strumento che vi voglio far vedere è questo questo sito ha tanti strumenti che potete utilizzare se fate appunto scendete lungo la pagina potete provarli un po' tutti quello che vi volevo mostrare è il cappello eccolo qua che funziona un po' come la ruota ma è molto divertente perché si inseriscono questo è già preimpostato con dei nomi ma se io scrivo qua ad esempio i verbi in questo caso tornare andare venire eccetera ecco qua e lo potete pescare così e quindi sono dei modi carini per giocare con gli studenti allora vi ho fatto vedere anche questo un attimo che ritorno qua dovrei essere tornata ok allora naturalmente vi ricordo per chi insomma non l'avesse ancora utilizzato questo strumento l'insegnante la comodità insomma della dad è anche poter assegnare degli esercizi interattivi in quattro click nel senso che potete dalla piattaforma per esempio idee selezionare la classe il libro gli esercizi che volete inviare cliccate su invia e li inviate sapete che su una piattaforma online didattica la correzione è automatica e tutti i punteggi le valutazioni vengono salvate nel registro virtuale e basta cliccare quindi vedete anche un po' qua si non è molto zoomato però potete vedere che ci sono i nomi degli studenti con le medie ottenute gli esercizi fatti svolti cliccando su i nomi del il nome del singolo studente potete vedere nello specifico nel dettaglio quello che ha fatto quindi andare a lavorare sulla gli eventuali errori dall'altra parte anche per gli studenti l'aspetto positivo di poter avere di svolgere gli esercizi in formato interattivo e quindi avere anche una correzione automatica è sicuramente che la parola interattività significa anche maggiore coinvolgimento sicuramente ma il fatto di avere la correzione immediata che cosa ha di positivo che lo studente può vedere subito quali errori ha fatto e essere autonomo e consapevole del proprio processo di apprendimento quindi in questo modo più coinvolto perché può scegliere appunto di andare a ripassare grazie sempre alla grammatica interattiva in questo caso per esempio quella che vi ho fatto vedere prima ce l'hanno anche gli studenti e quindi può ripassare la regola e poi rifare l'esercizio ha tre possibilità di rifare l'esercizio e appunto il concetto importante è che il compito è valutabile dallo studente stesso e questo è molto importante perché l'autonomia la consapevolezza è una fonte di motivazione allora torniamo a un altro tipo di attività scusate mi bevo un goccio d'acqua adesso vorrei vedere delle attività di comprensione orale e dalla comprensione orale passiamo arriviamo alla produzione orale o scritta come strumenti useremo il libro interattivo il tasto mostra di più trascrizioni lo sfondo va bene quello che vi dicevo prima sfondo virtuale così capite meglio e andiamo online così vi mostro questa volta vi faccio vedere un altro libro ok allora un attimo qui andiamo vediamo un'unità 6 sì pagina 92 93 ok per cliccare su un esercizio e farlo in formato interattivo cliccate sull'ingranaggio allora qui abbiamo un ascolto ci sono questi Lucia e Claudio che ordinano al ristorante e quindi la prima attività di ascolto adesso io anche se purtroppo attraverso adobe non potete sentire l'audio quindi non ve lo faccio sentire comunque basta cliccare sul più scusate sul play e per far partire l'audio potete svolgere l'attività con i vostri studenti quando quando ne approfitto per farvi vedere qualche altro tasto qui sotto così almeno sapete quale possibilità avete quando si illuminano dei tasti vuol dire che li potete usare che c'è qualcosa qui per esempio c'è la graffetta e aprite e potete mostrare le soluzioni in questa maniera una volta fatta una prima attività di ascolto passiamo alla seconda quindi clicco semplicemente sulla freccetta e passo alla seconda anche in questo caso questa attività invece interattiva ascolto di nuovo e per usare gli esercizi interattivi basta appunto rispondere e con il tasto TIC vedo quali sono le risposte sbagliate e giuste in questo caso le ho beccate tutte sbagliate e se clicco sull'occhio vedo quali sono le risposte corrette e con il questo tasto qua cancello tutto e lo posso rifare quante volte voglio allora quindi con un libro interattivo dalla diciamo dalla dall'ascolto potete passare a una produzione per esempio perché in questo caso avete se clicchiamo su questo ballon possiamo utilizzare già pronto il la trascrizione dell'audio e quindi qua abbiamo il dialogo tra lucia il cameriere e claudio quindi potete lavorare sulla sulla trascrizione e per esempio chiedere ai vostri studenti di modificare le battute quindi lavorare sulla produzione scritta e poi sulla produzione orale chiedendo di reinterpretare il dialogo come come preferiscono cambiando delle battute cambiando dei piatti eccetera insomma di modi ce ne sono tanti va bene sono tornata sì dovrebbe essere tutto a posto naturalmente quando gli chiedete di fare di reinterpretare il dialogo se avete la possibilità di aggiungere di far aggiungere agli studenti lo sfondo della situazione sarà sicuramente molto più più divertente per voi per gli studenti stessi allora un attimo perché ogni volta purtroppo torna indietro e vi volevo dare qualche consiglio per le attività di produzione orale allora se avete la possibilità di usare appunto le breakout rooms cercate quindi di suddividere gli studenti in gruppi in stanze virtuali separate ricordatevi di fornire le istruzioni e di caricare il materiale sempre prima questo vi permette di evitare appunto confusione perdite di tempo magari disagio perché gli studenti non capiscono cosa devono fare naturalmente allora dare un compito che cosa intendo quando lasciate gli studenti da soli lavorare è un po' difficile essere sicuri che effettivamente stiano lavorando soprattutto online quindi che compito potreste dare chiedere cioè quindi suddividere i vostri studenti in gruppetti coppie quello che è e chiedere per esempio a qualcuno di loro di recitare quello che ha provato o di riportare alla classe quello che ha detto il compagno eccetera e poi quando tornate in plenum per far sì che gli studenti effettivamente tutti gli altri ascoltino le altre coppie che cosa possiamo fare dare un compito a chi ascolta per esempio scrivi nella chat un'idea che ti è piaciuta del compagno sicuramente poi vi verranno in mente tante altre idee dicevo inserire degli sfondi perché sono stimolanti e ricreano la situazione comunicativa e se gli studenti ancora non si conoscono perché magari siete all'inizio dell'anno scolastico meglio fare di piccoli gruppi partire così piuttosto che con le coppie perché poi dipende sempre dall'età naturalmente però così perché ci sia meno disagio insomma perché in un gruppetto c'è sempre la persona che trascina di più e che quindi trascina anche gli altri come correggere come correggere e allora noi di solito la nostra nostro punto di vista è non interrompere gli studenti mentre parlano per correggerli ma come fare quindi per esempio se il software lo permette potete registrarli potete registrarli non so se nel vostro caso dobbiate anche chiedere l'autorizzazione e poi quando hanno finito un'altra o una prossima lezione potete riascoltare insieme e commentare insieme gli eventuali errori un altro metodo è la correzione in chat cioè l'insegnante raccoglie le frasi sbagliate e poi le invia alla fine alla chat è comune e questo che cosa che cosa si fa poi saranno gli studenti stessi a correggere gli errori quindi poi potete chiedere in questa frase che cosa è sbagliato eccetera per quanto riguarda la produzione scritta allora solitamente noi di solito li diamo per casa come compito per casa perché hanno più tempo per lavorarci eccetera guardate e questo va bene in realtà è possibile anche sfruttare la produzione scritta anche in classe online e l'online ti permette di lavorare di più con la scrittura collaborativa che è molto utile grazie appunto a documenti che si possono mettere in comune come google drive e quindi per esempio se volete far scrivere una storia gli studenti ogni studente scrive un pezzo eccetera sono degli esempi che vi sto dando è molto comodo ma anche padlet che sicuramente conoscerete dove potete avete presente dove si inseriscono tipo dei post-it e potete riepirli di parole e si usano per i brainstorming però si possono tranquillamente utilizzare anche per scrivere perché potete preparare voi come insegnanti delle colonne tipo dei lunghi post-it in cui suddividete i studenti a gruppi e lì appunto scriveranno anche questo sempre è un documento sempre in comune dicevo è possibile fare produzione scritta anche durante la lezione suddividendoli in breakout rooms se avete la possibilità e non lasciateli troppo a lungo per esempio 5 minuti e gli potete chiedere di preparare 5-10 minuti ecco di preparare per esempio un breve riassunto di un'intervista che hanno appena ascoltato se qui vi ho messo entrambi le opzioni perché dipende molto credo dalla classe dal contesto in cui insegnate quindi ci sono punti di vista diversi da una parte io direi ogni tanto di intervenire soprattutto se sono più piccoli se avete studenti più piccoli direi per farvi per esempio mostrare gli appunti in modo che non si sentano appunto lasciati soli dall'altra parte l'altro punto di vista è di non intervenire e non interromperli perché saranno loro a chiedere aiuto nella chat privata quindi le dite se avete bisogno non conoscete qualche forma eccetera scrivetemi in chat privata e io entro nella stanza virtuale quindi gestitelo un po' voi a seconda degli studenti che avete davanti anche in questo caso consiglio di dare un compito come prima per la produzione erale anche per la produzione scritta che si fa in classe intendo in dad durante la lezione in presenza tra virgolette per far sì che effettivamente siano stimolati a lavorare per esempio potete dire una coppia scelta con la ruota dei nomi che abbiamo visto prima leggerà la sua storia alla classe abbiamo parlato di gruppi come possiamo formare questi gruppi allora c'è un altro strumento in realtà che adesso vi faccio vedere possono scegliere loro quindi possono scegliere in base alle simpatie possono scegliere in base al tema su cui preferiscono lavorare quindi date le varie situazioni ad esempio se devono preparare un dialogo in una situazione specifica oppure potete utilizzare una scelta casuale con T-Maker è un altro strumento online sempre gratuito che potete utilizzare adesso ve lo faccio vedere eccolo qua giusto un secondo quando entrate su questo link è già preimpostato con dei nomi e voi naturalmente semplicemente li cambiate e qui potete lasciare team 1,2,3,4 potete mettere dare un nome a questa squadra potete scegliere con questo strumento quante dovreste vederlo quante squadre preparare ad esempio 9,6 vedete 5 facciamo 3 e cliccate su genere teams e vi vengono fuori eccole qua già le squadre pronte con i nomi quindi è molto veloce e poi gli studenti ce l'hanno a disposizione e possono vedere in quale squadra devono possono partecipare insomma entrare ok bene non vedo domande finora quindi tutto chiaro un secondo che nevo un goccio d'acqua allora attività online adesso vediamo qualche altro tipo di attività le famose web quest quindi già prima si era online vediamo cosa si può fare a distanza con queste attività allora qui vorrei farvi vedere come obiettivo abbiamo il rutilizzo delle strutture comunicative per descrivere allora io vi chiederei che attività proporreste per riutilizzare le strutture comunicative per descrivere descrivere per esempio non so una persona un aspetto un aspetto fisico un aspetto fisico un aspetto fisico un carattere un paesaggio qualche idea un aspetto due minuti potete scrivere sotto al powerpoint perché nelle domande per il relatore arrivano solo a me gli altri non riescono a leggere quindi qualcuno scrive Marta, descrivere la casa delle foto mostrate un albergo adesso scendono tutte e non riesco a leggere bene aspetto fisico di un personaggio uno studente potrebbe descrivere una persona gli altri indovinare di chi si sta parlando descrivere una pittura c'è un quadro, immagino una foto io ho coperto gli occhi di alcuni compagni perché toccassero altri e indovinassero le caratteristiche fisiche cercare l'anima gemella ok, allora vado avanti grazie allora l'attività che vi propongo è ritratti famosi allora a pagina 26 del libro dello studente c'è un ritratto molto famoso di Leonardo da Vinci la Gioconda o Mona Lisa vai su biografiaonline.it clicca su arti, quadri famosi, ritratti famosi scegli un altro ritratto famoso presenta il quadro ai tuoi compagni e usa le parole che hai imparato a pagina 26 quindi per riutilizzare appunto queste strutture per descrivere abbiamo scelto di lavorare sui ritratti vediamo che come si può fare in DAD questo mentre prima si dava per casa fondamentalmente si lasciava lo studente cercare per la prossima per la volta successiva qui in questo caso si può fare a lezione direttamente quindi gli studenti si preparano a piccoli gruppi nelle breakout rooms indicate oddio mi stiamo uscita no, no, è tutto indicate sempre prima di dividere in sottogruppi qual è il tempo che è a loro disposizione non so, 10 minuti quello che è una volta che rientrate in plenaria uno studente per gruppo mostra il ritratto scelto condividendo il proprio schermo qui proprio non si legge quindi in questo caso appunto date la possibilità allo studente di condividere lo schermo e di mostrare il ritratto i componenti sempre del gruppo lo descriveranno lo descriveranno agli altri in alternativa è possibile far svolgere l'attività individualmente e ogni studente quindi sceglie un ritratto si prepara e poi in plenaria lo descrive il resto della classe ecco vediamo le ultime attività ludiche mi ho preparate tre domino, tombola e memory allora intanto magari mi fermo già e rispondo a qualche domanda visto che arrivano Letizia chiede se gli studenti hanno il libro cartaceo possono lavorare con idee e sì allora libro cartaceo cosa intendete? dipende anche dal titolo che state utilizzando comunque se hanno il quaderno cartaceo per esempio all'interno trovano un codice che dà accesso vabbè poi ve lo dirò anche alla fine in realtà dà accesso appunto agli esercizi videogiochi, video eccetera nel libro dello studente cartaceo trovano sempre un altro codice che gli permette di iscriversi a idee possono far parte della classe quindi lavorare con l'insegnante eccetera per quanto riguarda il libro questo codice gli permette di acquistare con uno sconto dell'80% il libro interativo quindi tipo a 3-4 euro ok quindi andiamo avanti con questa parte qui allora come attività ve ne ho preparate tre domino tombola e memory allora partiamo dal domino cartaceo l'obiettivo è il riutilizzo ludico del lessico e delle strutture dell'unità sapete tutti cos'è un domino allora dividete la classe in gruppi di 4 studenti fotocopiate per ogni gruppo la scheda pagina 157 della guida e ritagliate lungo la linea tratteggiata le tessere del domino adesso vi farò vedere eccolo qua vi metto un altro sondaggio allora vedete spero che si legga abbastanza si leggono le parole vedete azzurri, verdi, piccoli, grandi, occhiali secondo voi con questo domino su quali elementi si lavora? vi lascio qualche istante intanto bevo un po' d'acqua bene, allora aggettivi, sostantivi, comunicazione, lessico descrizione fisica c'è ci sono concordanza tra nomi e aggettivi parti del corpo sostantivi e aggettivi, numero e genere ok, perfetto esattamente vedete ci sono gli articoli l'uso degli articoli la concordanza aggettivo nome c'è ci sono mischiate quindi abbiamo dato queste siamo ancora nella fase domino cartaccio quindi siamo ancora nella vecchia classe fisica e questo si consegnavano queste schede si tagliuzzavano e si giocava proprio con le schede del domino quindi mischiate e consegnate a ogni gruppo un set con le 48 tessere e spiegate le regole del domino quindi ad ogni giocatore vengono consegnate 12 tessere un giocatore mette sul tavolo una tessera il turno passa all'altro giocatore alla sua sinistra che deve attaccare una tessera in modo da formare una coppia e così via si possono accoppiare solo parole sul sfondo di colore diverso quindi bianco celeste ad esempio capelli neri qui per esempio uno studente mette questa tessera qui quello alla sua sinistra ne deve aggiungere un'altra e formare una coppia che abbia senso e che grammaticalmente diciamo funzioni per esempio capelli neri tutti gli studenti del gruppo controllano che il giocatore di turno forme una coppia valida vince che rimane per primo senza tessere in mano adesso vi faccio provare a voi provate a fare una coppia di parole anche voi scegliendo tra queste tra queste parole nelle tessere qui sopra vi do qualche istante capelli neri capelli corti occhi azzurri per esempio si può mettere c'è un amico poi si si può formare una no? una fila più lunga ci sono due chiavi ok questo vi ho fatto semplicemente provare perché perché in dad diventa esattamente così di quali strumenti ho bisogno delle breakout rooms della chat e dello screenshot sapete come si fanno gli screenshot allora dividete la classe in gruppi di 4 studenti aprendo delle breakout rooms inviate via email a ogni studente del gruppo 12 delle 48 tessere ogni gruppo giocherà domino come spiegato prima e per mettere sul tavolo la tessera ogni giocatore scriverà le parole della tessera nella chat ad esempio rossi barra un in alternativa se la classe non è molto numerosa potete giocare in plenum ecco questo è un esempio insomma per farvi capire che tutto è riutilizzabile un secondo esempio è la tombola allora tombola cartacea aspettate che devo capire è partito un po' troppo in ritardo il sondaggio allora guardatemi un attimo questo ppt salta ok ritorniamo qua siamo al secondo esempio di attività ludica una tombola e pensiamo quella cartacea con quale obiettivo didattico si può usare una tombola vediamo sicuramente qualcuno avrà già letto la risposta che è uscita e da qualche istante avete no presente la tombola come funziona solitamente noi ci giochiamo con i numeri a capodanno fissaggio arricchire il vocabolario imparare i numeri praticare i numeri comprensione orale produzione orale imparare i verbi ok mi fermo ora solo per vedere allora noi qui proponiamo una tombola di riutilizzo del lessico allora fotocopiate 3-4 volte dipende dal numero dei vostri studenti la scheda pagina 182 della guida ve l'ho messa già nel ppt quindi potete vederla su cosa si lavorerà sulla tavola no e consegnate le fotocopie agli studenti e chiedete a ognuno di realizzare la propria cartella per la tombola ritagliando e incollando 5 immagini una diversa dall'altra su un pezzo di carta ecco qua quindi questo è un esempio di cartella con 5 elementi che hanno selezionato preparate le parole da estrande per la tombola potete fotocopiare e ritagliare le parole fornite qui sotto arrotolate e inserite le strisce di carta in un contenitore estraete una parola alla volta e leggetela ad alta voce gli studenti che hanno sulla propria carterra l'immagine corrispondente alla parola estratta devono coprirla con una moneta per esempio vince vince chi copre per primo tutte e 5 le immagini della sua cartella e grida tombola poi il vincitore denomina i 5 oggetti sulla sua cartella e l'insegnante e i compagni verifichino verifica che corrispondano alle parole estratte neanche io non leggo sto andando a ricordo in dad che cosa si può fare allora potete inviare agli studenti questa scheda con le immagini e chiedete loro di realizzare la propria cartella virtuale per la tombola come si fa così con lo strumento screenshot possono ritagliare le immagini che vogliono utilizzare poi preparate la ruota o il cappello che abbiamo visto prima e inserite le parole suggerite per esempio sale, pepe, olio e procedete con il gioco della tombola quindi girando la ruota o battendo la bacchetta sul cappello per estrarre le parole lo studente che per primo fa tombola deve condividere lo schermo per mostrare la propria cartella completa ecco vediamo un'ultima attività che è memory e qua sono ok siamo in tempo allora l'obiettivo memory lo conoscete immagino tutti possiamo utilizzare per esempio per il fissaggio in modo ludico delle espressioni per parlare del tempo libero l'attività che vi propongo è questa abbiamo naturalmente qui stiamo parlando di un memory cartaceo ancora quindi abbiamo le schede da ritagliare e abbiamo per esempio andare ballare andare cinema venire al corso macchina e le immagini quindi quando un giocatore sapete deve fare l'accoppiamento copiare le carte un giocatore scopre una copia di carte deve completare l'espressione con la preposizione giusta e poi formare una frase con un'indicazione sulla frequenza quindi questo è un memory un po' più complicato in cui diciamo fistano anche appunto le preposizioni e le espressioni che indicano frequenza quindi un esempio qua che cosa farà il studente dovrà dire andare a ballare quindi aggiungere la preposizione giusta e poi formare una frase esempio vado a ballare una volta alla settimana scusate e e così va avanti il gioco quello che volevo far vedere no posso farvi vedere già questo in realtà e così poi andiamo online una volta sola quindi c'è la possibilità di preparare il memory direttamente online sulla piattaforma e inviarlo poi o giocare magari con la condivisione dello spermo insieme oppure inviarlo agli studenti che se lo ritroveranno nello spazio classe questo non è un memory è un altro esempio di gioco chi vuole essere milionario comunque tutti i giochi che inviate li trovano nello spazio classe tra i vari giochi videogiochi che ci sono a disposizione quindi ci sono una serie di videogiochi per l'insegnante già pronti o che potete creare e inviare i vostri studenti e vi farò vedere tutto alla fine di questa parte e molti di voi sicuramente già conosceranno e poi una serie di videogiochi che invece sono a disposizione solo dello studente e sono dei proprio videogiochi nuovi cartaggio molti di voi già lo conosceranno perché è online sicuramente da un paio d'anni e li trovano cliccando nel loro pannello di controllo stiamo parlando adesso dell'ambiente per studenti cliccando su giochi attualmente ci sono due tipologie di giochi c'è anche Luna Park adesso ve li faccio vedere comunque due minuti giusto per chi ancora non dovesse conoscerli e cosa hanno di positivo i videogiochi noi crediamo tanto nella didattica ludica e anche nella didattica ludica digitale perché è molto utile per ripassare e rinforzare in maniera coinvolgente e permette di lavorare su lessico grammatica e funzioni comunicative noi tutti i giochi sono già pronti già pronti per tutte le unità di tutti i nostri corsi praticamente quindi lavoro già pronto che trovate e permette agli studenti di esercitarsi in maniera autonoma divertendosi abbiamo creato delle piste quindi non sono semplici videogiochi ma fanno parte appunto di piste le piste corrispondono alle unità del corso qui vi ho fatto un esempio junior ma ce l'abbiamo come vi dicevo per tutti i corsi e quindi lo studente clicca sul videogioco e solamente quando riesce a completarlo può passare all'unità successiva e tutti i risultati vengono riportati in queste classifiche quindi credo che insomma conosciate abbiate ben presente come funziona il coinvolgimento con i videogiochi e con le classifiche normalmente questo possiamo sfruttarlo anche per l'italiano per la didattica dell'italiano un'ultima cosa che vi ricordo che c'è a disposizione ormai da anni sono i glossari interattivi per smartphone e tablet e questi li trovate per i cellulari appunto possono scaricare gli studenti sul proprio cellulare e vi ho messo anche di questo link nel documento finale che potrete scaricare se per caso non le conoscete e permettono appunto di mettersi alla prova sia possono sentire appunto la parola e possono giocare quindi gli vengono fuori le tre opzioni possibili e loro devono indovinare qual è la traduzione giusta ci sono vari modi per giocare con questa app ecco allora andrei un attimo online così vi faccio vedere visto che abbiamo un attimo di tempo quello che vi dicevo poco fa sui videogiochi chiudiamo anche questo allora siamo nel pannello dell'insegnante dovreste vederci ok tra i vari strumenti a disposizione abbiamo appunto questi giochi sia crea quindi potete creare i vostri test e giochi sia quelli già pronti nell'archivio di edilingua sempre test e giochi già pronti io per comodità per far prima l'ho già importato nel mio archivio così ve lo faccio vedere più velocemente quindi apro il mio archivio di giochi ad esempio il primo memory ve lo visualizzo questa è un'anteprima quindi è un po' più diciamo sfocata ma naturalmente quando lo inviate al vostro studente lo vedrà normalmente e quindi volevo far vedere il gioco già pronto e come funziona a livello tecnico su una piattaforma quindi si può giocare come vi dicevo sia insieme che inviarlo questo da parte dal punto di vista dell'insegnante adesso entro nella piattaforma come studente scusate faccio log out anche in questo caso io ho già il profilo naturalmente pronto i giochi come vi dicevo si trovano qui a sinistra io ne ho tanti perché ho inserito più codici quindi ogni volta che inseriscono i codici dei quaderni interattivi si ritrovano anche appunto i giochi relativi apriamo junior adesso vi ho fatto vedere junior vediamo junior questa è la pista che vi ho fatto vedere clicchiamo siamo nell'unità 0 clicchiamo sul primo gioco ci vuole un attimo perché si carichi perché ha tante immagini è possibile scegliere il livello adesso purtroppo la cosa brutta di adobe è che non c'è la condivisione del suono quindi non sentite la musichetta ed è tutta un'altra tutta un'altra cosa però almeno vi faccio vedere come si visualizza insomma quindi si può qua ci sono le istruzioni si sceglie la difficoltà e potete giocare sia insieme in condivisione di schermo e chiedete agli studenti di scegliere la carta insieme naturalmente con le altre piattaforme ad esempio zoom teams eccetera c'è la condivisione del suono quindi non si non c'è questo problema che abbiamo noi adesso insieme se sbagliano la carta vedete non la prende e così faccio l'abbinamento mi chiamo Denise come ti chiami questo è il mago cartaggio poi se non rispondo abbastanza velocemente le carte si congelano adesso vi faccio vedere l'altro e questo è il Luna Park le paperelle come le chiamiamo noi un attimo che si ricarichi anche questo quindi quello era un memory qui allo stesso modo possiamo scegliere la difficoltà qui abbiamo le solite istruzioni e io devo rispondere alla domanda come si pronuncia la C di cinema cliccando sulle parole giuste nel mentre posso sparare anche su altre cose per esempio posso vincere monete in più eccetera ecco qui ho fatto giusto e prendo so lì e quindi è qua la risposta giusta ecco questo per farvi vedere chiudo vedete che qua ci sono altri animali che si possono prendere spero che abbiate visto il gioco perché ho visto un sto leggendo scusatemi le vostre domande qualcuno dice che vede la pagina teammaker spero che abbiate visto il videogioco rispondo a già qualche domanda visto che le vedo allora Eva come proibire che gli studenti risolvano esercizi di livelli seguenti una volta che usano il loro codice in piattaforma pochi giochi li conoscano prima del tema allora no non c'è un modo per bloccare i giochi l'unico modo è che cioè i giochi sono bloccati nel senso che sono progressivi quindi per farli devono cioè per riuscire a farli devono conoscere il tema devono aver visto l'unità e imparato appreso non so le parole la grammatica quello che è perché se non riescono a superare il videogioco di quell'unità non possono andare avanti a quelle successive quindi io non posso non fare lo 0 l'1 la 2 e fare la 6 in questo senso si sono bloccate ok ah sì qualcuno dice che quando condivido lo schermo purtroppo si sente male mi dispiace spero comunque che siate riusciti a seguire vi do queste due informazioni in più sulla registrazione l'insegnante vi ricordo che sulla piattaforma idee si registra gratuitamente deve solo compilare il modulo con i propri dati email e password senza codice non c'è bisogno di nessun codice mentre gli studenti che cosa devono fare per registrarsi devono sempre usare un codice che trovano nel libro cartaceo o se non hanno il libro cartaceo e lavorano direttamente sul digitale possono prendere acquistare il codice direttamente dal sito di lingua sui prodotti digitali e inseriscono il codice nella in questo modello praticamente vanno su registrazione e gli compare questa forma per inserire il codice e come vabbè vi avevo anticipato prima perché qualcuno l'aveva chiesto quando inseriscono i codici dei quaderni automaticamente hanno accesso ai video relativi di quel corso le tracce audio i videogiochi gli esercizi naturalmente interattivi la grammatica e altre risorse quello che un po' vi spiegavo prima e naturalmente alle attività che preparate voi per loro quindi se voi preparate la classe virtuale inviate il codice agli studenti e loro entrano nella vostra classe vedranno tutto quello che voi preparate e inviate allora prima di arrivare se avete altre domande pensate ci abbiamo ancora qualche minuto vi darei qualche ultimo consiglio per la dad diciamo per riassumere un po' quello che abbiamo visto in quest'ora e mezza allora direi che la soluzione migliore sia sempre come anche in classe naturalmente ma a maggior ragione in dad alternare le attività in plenum in gruppi a coppie e individuali privilegiare una didattica per azioni perché per cercare appunto di coinvolgerli e di attivarli e l'unico modo è farli lavorare quindi didattica per azioni chiamare e far partecipare tutti sembra una banalità però forse vi sarà capitato magari se avete più studenti che e soprattutto con alcune piattaforme in cui per esempio zoom si vedono solo i primi video e poi i primi di studenti gli altri non si vedono i primi 5 e 6 e quindi ci si può dimenticare anche di qualcuno o lo si chiama meno quindi preparatevi la lista di questi ragazzi di questi i nomi e mettete un tic una x ogni volta che li chiamate così siete sicuri che coinvolgete tutti quanti e cercatevi di mantenere il contatto visivo per accorciare le distanze questo può quindi cercare il più possibile di lavorare sempre con la videocamera e di proporre attività in cui ci si vede in cui si parla insieme e questo l'unico modo un po' per accorciare appunto le distanze cercare di rilassare un esempio che ho messo è la musica come abbiamo fatto noi che all'inizio mettiamo sempre un po' di musica prima di cominciare questo lo potete fare anche con i vostri studenti quindi prima di cominciare la lezione mettete un po' di musica all'inizio e vedrete effetti secondo me positivi comincerete sicuramente col buon umore e magari sono anche degli input perché mettendo delle canzoni italiane gli studenti non le conoscono e quindi senza saperlo state già lavorando su cultura italiana su input italiani magari cominceranno spontaneamente a farvi delle domande ma chi è il cantante ma chi è questa questa canzone eccetera eccetera e vi chiederanno anche altre cose e e poi sdrammatizzare sdrammatizzare e accettare la fallibilità perché soprattutto con la tecnologia possono sbagliare loro possiamo sbagliare noi può non funzionare qualcosa pazienza siamo esseri umani per sdrammatizzare infatti vi voglio mettere questo applauso con Brad Pitt che in realtà è un GIF e appunto a causa della tecnologia con questo Adobe non si vede però appunto Brad Pitt sta veramente applaudendo le mani e questo lo potete usare con i vostri studenti magari alla fine di un esercizio no naturalmente scegliete il personaggio che vi piace di più io ho scelto Brad Pitt questo è un altro consiglio che vi posso dare ok questo è quanto se c'è qualche domanda vediamo vabbè ho un po' risposto durante il webinar allora Maira spero di leggere bene come insegnante dice sono già registrata ma non so dove vedo il mio codice se mi potete aiutare allora come insegnante non hai bisogno di nessun codice quindi non so cosa cioè questi codici di cui parliamo servono per gli studenti per registrarsi su IDEA e quindi il codice lo trovano nel libro e si registrano col codice l'insegnante no vi registrate e avete diciamo la piattaforma a disposizione vediamo se c'è qualche altra domanda tra l'altro aspetta ecco il codice scuola non riesco a registrare il codice scuola perché il codice scuola non c'è più non è più disponibile da parecchio tempo ormai non è che cambiasse molto nel senso che il codice scuola serviva semplicemente se la scuola voleva supervisionare l'attività dei insegnanti e studenti ma per lavorare non serve un codice scuola è scritto anche molto in piccolo quindi non ci vedo molto domande lunghe allora finiamo con intanto con questa parte qua ciro che dice che ha degli alluni registrati finiamo con idee come li raccolgo in classe o come li recupero allora create la classe virtuale e quando create la classe dovete vi uscirà una diciamo nel modulo per creare la classe c'è un punto in cui viene chiesto inserisci il codice classe quello lo dovete pensare voi lo create voi date il nome che volete non so livello A1 corso 2021 quello che volete poi date questo codice classe ai vostri studenti e gli studenti lo inseriscono nella loro piattaforma scusatemi nel loro account su idee e così entrano automaticamente nella classe cioè non è l'insegnante che li deve mettere nella classe sono gli studenti che entrano automaticamente inserendo il codice ok sì difficile capire prego Eva dice che ha problemi a lavorare con i testi perché i ragazzi non sa se appunto seguono stanno dormendo sicuramente scegliere testi brevi perché così riescono a stare più attenti sicuramente sicuramente come dice appunto Eva di far leggere un paragrafo alla volta poi di spiegarlo agli altri chiamandoli quindi facendoli intervenire cioè un ragazzo spiega un paragrafo cioè lo legge scusatemi e magari si chiama qualcun altro a intervenire a spiegare alcune parole o a riassumerlo cioè fare in modo di diciamo chiamarli un po' tutti in gioco magari utilizzando gli strumenti che vi ho fatto vedere prima che così vedendo non lo so il cappello magico la ruota eccetera o magari chiedere a loro di girare la ruota o il cappello per passare la parola a qualcun altro cioè qualche qualche modo per incuriosirli ecco per attirare la loro attenzione secondo me basta ho risposto a tutto perché quelli se gli studenti hanno il libro cartaceo possono lavorare con idea avevo già risposto durante la metà del webinar quindi se non c'è altro Daniele mi sta scrivendo qualcos'altro aspetto un attimo ok ok direi che non c'è altro ok niente adesso c'è qualcuno che sta ringraziando va bene niente allora grazie a voi ah quello che non ho fatto mi sono completamente dimenticata perché sono passata subito alle domande allora io vi chiederei chiederei un secondo di rispondere al feedback al questionario di gradimento vi lascio due minuti però non andate via se avete qualche altra domanda me la potete scrivere perché vi voglio dare delle indicazioni sulle i file da scaricare quindi vi lascio due minuti per il feedback grazie 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 Ecco, allora ci sono altre domande, non lo so, vedo solo un pezzo di domanda di Riccardo per i livelli A1, A2 soprattutto, ma non solo, quindi non riesco a capire la domanda. Quello che abbiamo visto oggi era sì attività che ho preso soprattutto dai primi livelli di nuovissimo progetto di Via del Corso, però come strumenti, come idee, così li potete, diciamo, riutilizzare anche, cioè, un po' con tutti i livelli. Quello che vi volevo dire è che adesso avete, potete scaricarvi, allora come file? Vabbè, c'è la, forse l'avrete scaricato alcuni anche nei webinar precedenti con Talies Marine, quindi la guida DAD di Via del Corso, la guida DAD di Nuovissimo Progetto Italiano, dove trovate un sacco di consigli utili e di strumenti su come fare qualsiasi attività del libro, quindi sono veramente molto utili. Poi avrete, potete scaricarvi l'attestato, se non ci riuscite non vi preoccupate, vi manderò una mail, vi manderemo una mail. e Diana chiede dove si scarica adesso, appena chiudo il video, troverete tutto sotto, una serie di file, sempre qui. Poi vi dicevo il documento Word con questi link che vi ho dato oggi e poi, vabbè, altri link. Quindi, comunque, per qualsiasi cosa ci scrivete. Allora, niente, buona giornata, buon weekend e buone lezioni. Ciao a tutti! Ciao a tutti!